Fai fatica a mettere a fuoco quando stai scattando una foto o girando un video? Benissimo, questo è esattamente il video che stavi aspettando. Nel corso di questo contenuto andremo a esplorare il sistema di messa a fuoco di una delle mie ultime fotocamere e videocamere, andremo a vedere come si imposta la messa a fuoco a seconda di quale sia il contesto che dobbiamo andare a riprendere e andrò a spiegarvi come l'ho imposto io per ottenere sempre i risultati migliori. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e mi occupo di fotografia per le aziende ormai da tanti anni. E' quindi essenziale per me che la messa a fuoco sia tarata nel modo migliore. Esistono infatti diversi settaggi, diverse opzioni che possiamo impostare per dire alla fotocamera che tipo di scena stiamo riprendendo e in che modo vogliamo che il processore della fotocamera vada a leggere la scena per mettere a fuoco esattamente dove vogliamo noi. La fotocamera può lavorare in automatico e fare tutto di testa sua e molto spesso ci restituirà dei buoni risultati, ma altrettanto spesso ci troveremo magari in dei contesti dove la macchina fa fatica e dove dobbiamo darle un aiutino a leggere la scena in maniera tale da portarci a casa il risultato che vogliamo. Capite bene che se in un contesto come questo fosse il microfono a essere a fuoco invece della mia faccia sarebbe problematico. Ecco perché dobbiamo sempre andare a dire alla fotocamera come leggere la scena nel modo migliore. Ovviamente prima di cominciare io vi ricordo di iscrivervi al canale cliccando il bottone qui sotto, non dimenticate di lasciare anche un like a questo video e andiamo subito a incominciare. Molto bene ma eccoci qui all'interno della nostra fotocamera, in questo caso è una Canon EOS R6, ovviamente per andare a gestire la messa a fuoco andiamo ad aprire il menu della messa a fuoco che è il menu contrassegnato da AF ed è il menu viola. Ora andiamo a vedere tutte le impostazioni che ci interessano. Innanzitutto abbiamo il funzionamento AF, abbiamo One Shot o Servo. Queste due impostazioni servono a stabilire se la nostra fotocamera manterrà il punto di messa a fuoco che abbiamo selezionato nel momento in cui andiamo a premere il pulsante di messa a fuoco e questa è la modalità One Shot, quindi io seleziono il mio soggetto, metto a fuoco e a quel punto il punto di messa a fuoco rimarrà fisso nello spazio fino a quando io non scatto. Al contrario la modalità Servo, nel momento in cui io seleziono il punto di messa a fuoco, andrà a seguire il mio soggetto se il mio soggetto si muove. Questo è molto utile quando scattiamo soggetti in movimento e vogliamo realizzare scatti multipli perché la nostra messa a fuoco andrà a seguire il nostro soggetto invece di rimanere bloccata nel primo punto in cui il nostro soggetto si trovava. La seconda opzione che troviamo è quella del metodo di autofocus. Qui come potete vedere abbiamo inseguimento e riconoscimento della faccia, abbiamo spot AF, abbiamo il punto normale di messa a fuoco, abbiamo le aree espanse e poi le zone. Questi punti di messa a fuoco si trovano anche sul normale display di scatto. In particolare se io vado a premere questo pulsante vedete che mi compaiono esattamente le stesse opzioni. Con il pulsante info io posso andare a attivare il riconoscimento dell'occhio o disattivarlo, come potete vedere. Qui possiamo andare a selezionare il punto di messa a fuoco piccolo che ovviamente può essere spostato. Se vado a premere set due volte lo riporto al centro. Torniamo nel nostro menu di messa a fuoco. Qui possiamo scegliere il punto di messa a fuoco più grande, quindi che ci dà un'area più grande su cui andare a mettere a fuoco. Possiamo poi andare a selezionare i punti espansi. Quindi abbiamo un punto di messa a fuoco con delle zone intorno che vanno a dare supporto al punto di messa a fuoco centrale. Abbiamo poi le zone che servono ovviamente per andare a catturare una porzione di schermo. Quindi se il mio soggetto si sposta sempre in questa zona io imposto le zone oppure se sto facendo per esempio una gara di Formula 1 io imposto la zona in questo modo vado a beccare sempre un soggetto che andrà a scorrere in quella zona. Personalmente vi dirò che le modalità che uso più di frequente sono quella automatica con l'inseguimento, il riconoscimento facciale e soprattutto il riconoscimento dell'occhio. È anche possibile ovviamente andare a mettere a fuoco semplicemente cliccando sul monitor col dito. Quest'opzione, vedete il punto di messa a fuoco in questo momento è qui, può essere disattivata andando a cliccare qui su Off. Quindi io vado a cliccare Off e viene deselezionato il punto di messa a fuoco precedentemente impostato. Torniamo all'interno del nostro menu e vedete che qui abbiamo soggetto da rilevare. Qui in pratica stiamo dicendo alla nostra macchina se stiamo cercando di mettere a fuoco persone, animali o veicoli o anche nessuno. Personalmente lascio su persone. Se poi stiamo fotografando un veicolo di solito se ne accorge da sola ma nel caso stiamo facendo una gara automobilistica è meglio segnalarglielo perché persone e animali in quel contesto non ce ne saranno. Così come se stiamo fotografando uccelli, persone e macchine non ce ne saranno. Quindi è un'indicazione in più che diamo alla macchina per essere più efficace, più efficiente e più rapida nelle decisioni da prendere. Rilevamento occhi attivo ma come abbiamo detto si può attivare e disattivare anche in altro modo semplicemente dal menu con il pulsante info. Autofocus continuo. Io questo lo tengo disattivato. Questa è un'opzione che serve a dire alla macchina che deve costantemente provare a mettere a fuoco anche se non la stiamo utilizzando. Quindi anche se ce l'abbiamo al collo e non stiamo facendo niente lei continuerà a cercare di mettere a fuoco la scena. Produrrà un po' di rumore perché il motore comunque un po' di rumore lo fa e si scaricherà molto più in fretta la batteria. Quindi personalmente sconsiglio vivamente di tenere attiva questa opzione salvo che non sia per un motivo molto importante. Autofocus servo filmato attiva. Questa è l'opzione che ci permette di avere l'autofocus continuo durante le registrazioni video. Quindi questa personalmente la lascio sempre attiva. Può comunque essere disattivata impostando il fuoco manuale dal selettore sul nostro obiettivo. Impostazioni tocco e trascino autofocus. Questo è interessante. Tocco e trascino attiva. Questo significa che nel momento in cui io sto guardando nell'oculare io posso andare a toccare il display con il mio pollice e spostare il punto di messa a fuoco sul soggetto che desidero. Metodo posizionamento relativo o assoluto? Allora, assoluto vuol dire che dove io tocco il punto di messa a fuoco sarà lì. Relativo vuol dire che nel momento in cui io comincio a toccare e sposto sposterò il punto di messa a fuoco da dove si trovava. Personalmente lascio relativa perché non ho la precisione tale da andare sempre a beccare sul display a colpo sicuro. Area tocco attiva. Qui possiamo scegliere se questa impostazione funziona su tutto il monitor oppure solo sulla metà di destra, di sinistra, in alto e in basso. Personalmente ho impostato a destra perché in questo modo quando io sto scattando posso fare questo giochino col pollice sulla parte destra dello schermo. Così non uso mai il joystick. Lo so che a tanti piace il joystick. Io non lo uso mai perché quando devo fare questo giochino semmai uso il display. Mi viene più comodo. Passiamo al secondo menu. Qui abbiamo le impostazioni di peaking. Questa è una cosa che funziona solamente quando la macchina è impostata in manuale. Quindi peaking sì. Io l'ho messo attivo. Livello alto. Quindi sarà molto visibile. Colore rosso. Noi possiamo decidere il colore perché se stiamo riprendendo una scena con molto rosso il peaking rosso non lo vedremo. Quindi possiamo andare a mettere il blu per esempio. Il rosso di solito funziona. Che cos'è il peaking? Praticamente è un ausilio sulla messa a fuoco che ci permette di vedere colorata in rosso la porzione con il maggiore contrasto quindi la porzione a fuoco della nostra immagine. È molto utile quando si mette a fuoco manualmente per l'appunto. Guida di messa a fuoco ovviamente sì. La guida di messa a fuoco è un selettore che di nuovo ci fa vedere dov'è che stiamo mettendo a fuoco e riusciamo ad andare a farlo con più precisione. Scatto luce autofocus ausiliaria. Questo qui è il classico beam che aiuta la messa a fuoco automatica. Possiamo attivarla o disattivarla. Possiamo andare a mettere solo luce ausiliaria quindi nel momento in cui stiamo utilizzando un flash verrà utilizzata solo quella. Procediamo con le prossime opzioni e qui è dove la cosa si fa veramente interessante. Qui abbiamo le impostazioni di autofocus per il servo e abbiamo quattro casi distinti più un caso automatico. Allora nel primo caso abbiamo impostazione multifunzione versatile e abbiamo una sensibilità di inseguimento e un'accelerazione d'accelerazione. Possiamo andare cliccando direttamente sul display a modificare questa impostazione. Personalmente vi dirò che le lascio così come sono di default perché trovo che funzionino abbastanza bene. Ora nel primo caso abbiamo un'impostazione versatile che quindi si adatta alla maggior parte dei contesti ed è morbida nel passaggio tra un primo soggetto e un secondo soggetto che entra in campo. Abbiamo poi un'opzione 2 continua in seguimento soggetti ignorando ostacoli. Questa è l'opzione da selezionare nel momento in cui vogliamo focalizzarci sul nostro soggetto principale ignorando altre cose che entrano nel nostro schermo. Vedete in questo caso la fotocamera sta ignorando la mia mano e sta continuando a mettere a fuoco sul display perché io sulla mia macchina in questo momento ho impostato questa seconda versione. Abbiamo poi il caso 3 Fuoco immediato sui soggetti che entrano nei punti di messa a fuoco. In questo caso ovviamente non appena io entro all'interno del mio frame la macchina va subito a cercare di mettere a fuoco l'oggetto nuovo che è appena entrato. Quindi l'oggetto intruso viene ricercato e messo a fuoco immediatamente. È una modalità fatta apposta appunto per cercare di beccare il movimento. Quindi nel momento in cui voglio beccare qualcosa che entra molto velocemente nella mia inquadratura come può essere una gara sportiva con gli sportivi che entrano in campo molto rapidamente questa è l'opzione da selezionare. Abbiamo poi il caso 4 ovvero una modalità che privilegia soggetti che accelerano o decelerano rapidamente. Quindi la macchina cercherà di essere reattiva e pronta a cogliere questi cambiamenti repentini di direzione e di velocità. Ovviamente anche qui va bene per lo sport e dobbiamo provarle un po' per cercare di capire come si adattano a quello che stiamo facendo e non dimentichiamoci che possiamo anche andare a modificare la sensibilità dell'inseguimento e accelerazione ed accelerazione dell'inseguimento stesso. Abbiamo poi un'ultima modalità che è la modalità auto. Questa modalità è un po' come se le racchiudesse tutte nel senso che si adegua alla scena che la macchina rileva. È una modalità che può valere la pena sperimentare ovviamente sarà più lenta perché la macchina dovrà pensare e cercare di leggere la scena e capire quale modalità usare mentre se gliel'abbiamo già detto noi sarà più reattiva. Nel menu 4 abbiamo tutta una serie di opzioni che vi dirò io francamente non utilizzo praticamente mai. Andiamo a vedere alcune delle cose che possono comunque essere interessanti come priorità scatto AF one shot. Allora se noi andiamo a selezionare la guida vedete che con priorità fuoco non viene effettuato alcuno scatto finché il soggetto non è a fuoco. Con priorità scatto invece la priorità è allo scatto rispetto alla messa a fuoco. Questo che cosa vuol dire? In questo caso la priorità è sul fuoco significa che in questo momento se la fotocamera non riesce a mettere a fuoco e quindi la messa a fuoco non si aggancia non potrò premere lo shutter mentre se io vado a dare priorità allo scatto la macchina scatterà anche se la fotografia non è a fuoco. Qui è una scelta personale. Se non volete rischiare di perdervi dei momenti e quindi volete che la macchina scatti sempre anche se non è a fuoco impostate pure scatto. Io vi consiglio di scattare con priorità fuoco perché se la foto non è a fuoco è inutile scattarla per quanto mi riguarda. Cambio soggetto inseguito questa modalità serve a decidere in che modo con che velocità la macchina passerà da un soggetto iniziale a un nuovo soggetto che entra in campo. Ovviamente se diamo priorità al soggetto iniziale la macchina cercherà di mantenere il nostro soggetto iniziale se gli diciamo cambia soggetto andrà a cambiare il soggetto molto più rapidamente quando ne rileva uno. Drive OB con autofocus impossibile qui è impostato su ON questo significa che la macchina continuerà a provare a mettere a fuoco anche se non c'è riuscita precedentemente. Se lo mettiamo su OFF se la macchina effettua un tentativo di messa a fuoco e non va a buon fine smetterà di provarci personalmente l'ho lasciato su ON. Limita metodi di autofocus questo è interessante perché vi ricordate tutti i metodi di cui abbiamo parlato all'inizio? Noi abbiamo la possibilità di dire alla macchina che alcuni non li vogliamo per esempio se io so che le zone non le userò mai le deseleziono in questo modo non le vedo più e sono più rapido nella selezione dei modi di messa a fuoco che mi interessano personalmente le lascio tutte è una cosa che faccio molto di rado e quindi la lasciamo così. Qui abbiamo poi un bottone ulteriore che ci permette di accedere al menu di messa a fuoco in questo caso è il bottone multifunzione per me l'ho impostato in questa maniera e quindi quando premo il pulsante multifunzione vedete che mi compaiono le scelte dei sistemi di messa a fuoco in realtà ho fatto una cavolata perché c'è anche qui quindi potevo lasciare semplicemente questo quindi ho due bottoni che fanno la stessa cosa prima o poi vado dentro e ne cambio uno per avere più versatilità. Punto AF di orientamento qui serve se vogliamo andare a lavorare sempre in orizzontale oppure anche in verticale io per il momento l'ho lasciato così perché raramente lavoro in verticale con questa macchina. Siamo arrivati alla parte finale punto autofocus serve iniziale per l'inseguimento è impostato su automatico qui noi possiamo andare a dirgli che tipo di modalità deve utilizzare quando andiamo a mettere a fuoco per la prima volta francamente vi dirò che io questa la lascio su auto perché voglio che sia la macchina a leggermi la scena il bello della mirrorless è che ti dà versatilità e velocità su un procedimento come questo quindi personalmente l'ho lasciato su auto se sappiamo che dobbiamo fare una cosa molto specifica possiamo andare a selezionare qualcosa di diverso ma personalmente non ne ho ancora mai vista la necessità. Qui poi abbiamo delle opzioni per la rotazione dell'anello di messa a fuoco normale o contraria quindi possiamo invertire il senso di rotazione dell'anello di messa a fuoco possiamo andare a gestire la morbidezza quindi possiamo decidere se la velocità varia con velocità di rotazione la sensibilità dell'anello di messa a fuoco varia a seconda della velocità con cui rotiamo oppure la posizione della focale cambia in base al grado di rotazione personalmente vi dirò che essendo abituato alle vecchie ottiche io preferisco questo metodo però è una cosa assolutamente personale qui poi abbiamo un'opzione per la sensibilità dei punti di autofocus personalmente vi dirò che lo tengo sempre a zero non sono neanche sicuro che la differenza sia percettibile per cui questa è un'impostazione che francamente non tocco mai abbiamo poi MF elettronico permanente qui vedete che abbiamo la possibilità di specificare l'operazione di messa a fuoco manuale con un obiettivo dotato di anello di messa a fuoco elettronico quindi prevalentemente gli obiettivi RF consente di mettere a fuoco manualmente in qualsiasi momento quando la fotocamera è pronta per l'uso anche questa vi dirò è un'opzione che io tengo off perché non ne ho ancora mai avuto la necessità se si presenterà la necessità vi farò un video apposito e con questo direi che abbiamo terminato la panoramica sulle nostre opzioni di messa a fuoco adesso torniamo in studio per le considerazioni finali bene amici come avete potuto vedere si tratta di un sistema mediamente complesso stiamo lavorando su una mirrorless praticamente di ultima generazione per cui abbiamo un sistema di messa a fuoco abbastanza completo bello denso che ci permette di prendere delle decisioni molto precise in base a quello che vogliamo realizzare sicuramente noi possiamo cavarcela quasi sempre lasciando tutto in automatico certo la mirrorless è fatta anche per questo è fatta proprio per consentirci di non doverci preoccupare più di niente che tanto fa tutto lei però è vero anche che questo va bene per le scene standard nel momento in cui ci troviamo a dover scattare o riprendere una scena un po' fuori dal comune ecco che sapere come si utilizza la messa a fuoco e impostarla nella maniera giusta sicuramente può essere un ausilio importante per la corretta realizzazione delle nostre immagini a questo punto come sempre io vi lascio spazio nei commenti fatemi sapere che cosa ne pensate fatemi sapere voi come la impostate se fate qualcosa di diverso se manomettete le impostazioni di base e andate a mettere dentro qualcosa che per voi funziona di più parliamone nei commenti iscrivetevi così non vi perdete le mie risposte sotto forma di shorts verticali signori è stato come sempre un piacere passare un po' del mio tempo con voi e io vi do appuntamento al prossimo video a Grazie a tutti.